esso, superando un colpevole, anzi doloroso ritardo normativo, applichi finamente e pienamente la nostra Costituzione. Sulle unioni civili è arrivato il momento di dire della verità. L'equilibrio raggiunto è solido, responsabile e per nulla ideologico. Perciò, come ho dichiarato stamattina, il sì alle unioni civili è un atto di civiltà. Per questi motivi esprimo il voto favorevole a nome di Alleanza Liberale Popolare e Autonomie. Grazie. Grazie, deputato Abrignani. Adesso do la parola alla deputata Eleonora Becchis. Prego, deputata. Grazie, signora Presidente, onorevoli colleghi. Ci sono voluti trent'anni per arrivare al punto in cui siamo oggi. Il dibattito parlamentare sul riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, iniziato in queste Aule nel lontano 1986 dall'interparlamentare Donne Comuniste, ha portato finalmente a svelare la vera natura di questo Paese e di dare finalmente ai nostri concittadini omosessuali un bene loro sottratto da tanto tempo. Troppo tempo. Si può liberare i banchi del Governo, per favore? Grazie. Grazie. Prego, deputata. La dignità di essere legalmente considerati cittadini di serie B. Trent'anni per arrivare a una legge arretrata, cedevole e dal destino segnato. In mia convinzione, infatti, che il giorno dopo la sua firma inizieranno i processi nei tribunali e le manifestazioni in tutta Italia per affermare il diritto di essere cittadini con la C maiuscola. Il testo, su cui quest'Aula è chiamata ad esprimersi, è un pasticcio incredibile, figlio di una serie infinita di compromessi a ribasso. Il testo, infatti, è stato stravolto non solo sotto l'aspetto sociale e politico, ma anche sotto quello formale. Ad una valutazione di insieme è evidente che siamo di fronte a un'occasione mancata, ad un'assoluta perdita di tempo col passaggio alla Camera. Le audizioni e i pareri di esperti, magistrati, docenti universitari e associazioni sono stati completamente ignorati. Sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati che avrebbero potuto migliorare il testo. E per chiudere in bellezza viene apposta anche la fiducia. Una fiducia al quadrato, prima al Senato e ora alla Camera. È vero, quello delle unioni civili è una lacuna normativa insostenibile per un Paese civile. Per anni abbiamo assistito a susseguirsi di proposte più o meno buone, tutte sprofondate nell'oblio. Si è sempre trattato di iniziative monche, nate sulla scorta di mediazioni interessate, che poco avevano in comune con il tema dei diritti. Certo, questo è un provenimento nuovo e di più ampio respiro rispetto ai suoi fratelli minori, ma non basta. Ci sono ancora molti fattori discriminanti, soprattutto nella loro accezione di diritto, limitato ad una sola parte dei cittadini. E questo è assurdo. La proposta istituisce un nuovo istituto che tutela parzialmente i diritti che prima di oggi non erano contemplati nelle nostre leggi. Un primo, modesto passo che riconosce realtà di convivenza e di coppia anche per le persone dello stesso sesso. Questa legge creerà una situazione che comunque è lontana anni luce dal riconoscimento pieno di uguaglianza e di diritto per le coppie LGBT. La distinzione tra coppie omosessuali ed eterosessuali nell'accesso alle nuove unioni civili risulta contraddittorio rispetto al contenuto dell'articolo 3 della Costituzione, che fa dell'uguaglianza uno dei principi fondamentali della nostra Casa Comune. Questa legge, invece, istituisce una formazione sociale che si basa proprio sulla distinzione di sesso tra i contraenti, riguardando solamente le coppie dello stesso sesso. Non si possono creare nuovi diritti civili che non siano validi per tutti, solo perché non si ha il coraggio di estendere quelli esistenti senza limitazioni. È chiaro a tutti che questa è una scelta voluta dalla maggioranza cattolica del PD e deriva da un accordo a ribasso in pieno stile renziano. Ancora una volta, cari colleghi, siamo chiamati a esprimerci su un testo monco che serve solo a dare nuovi elementi alla propaganda. Infatti, questa è una legge che non garantisce tutto per non deludere nessuno. L'esempio perfetto è il comma 20, che stende i diritti alle coppie omosessuali, ma non al punto di renderle uguali alle coppie etero. E chi sarà a farne le spese? Lo sappiamo tutti, anche chi fa finta di non capire. Ancora una volta saranno i bambini a pagare il prezzo più alto. In questo pasticcio legislativo, composto da un solo articolo, la parola figli compare solo nel comma 42. Non è giusto che per scoraggiare una modalità di procreazione che non viene accettata dalle parti più reazionarie del Paese si colpiscano i bambini che ne sono il frutto. È cinico, oltre che odioso, negare i loro diritti per educare altri aspiranti padri gay. Si è sprecato troppo tempo a parlare dell'eticità o meno della gestazione per altro, tralasciando però un quesito importante. Impedire la possibilità di adottare il figlio del partner servirà davvero a scoraggiare la gestazione per altri? Io sono convinta di no. Ognuno è libero di giudicare a suo modo il desiderio delle coppie omosessuali di diventare padri o madri. Nessuno, però, si può permettere di presentare questa volontà come un capriccio. Nessuno può pensare che per una persona omosessuale fare figli sia come acquistare un'automobile e per gli etero sia invece qualcosa di superiore. Non esistono genitori gay e genitori etero, ma solo buoni genitori e cattivi genitori. Diventare genitore è una scelta totale che comporta soprattutto responsabilità, oltre che impegno di tempo, affetti, denaro e libertà professionale. Pertanto, vietare l'adozione del figlio del partner non inciderà assolutamente sulla gestazione per altri, perché ciò che non si può né vietare né regolare è il desiderio che la muove, quel desiderio di diventare genitori che non si arresta con un divieto legislativo. Oggi, noi di Alternativa Libera possibile, ci troviamo combattuti, perché da un lato è indispensabile che il nostro Paese si doti di una norma che riconosca finalmente di fronte alla legge le coppie omosessuali. Dall'altro, non vogliamo votare una legge che discrimina le famiglie arcobaleno e mette nel cassetto il diritto dei bambini di essere felici e di sentirsi come gli altri. Tuttavia, siamo coscienti che l'operazione mediatica messa in atto su questo provvedimento ha creato nella gente l'immagine che chiunque ritardi l'approvazione di questa legge sia omofobo e sia contro i diritti, creando una distorsione della realtà. Ma concludo con un piccolo aneddoto capitato qualche tempo fa. È il primo dicembre. Rosa, una ragazza che torna a casa dal lavoro, sale sull'autobus e si siede al primo posto libero che trova. Qualche fermata più avanti sale un signore che rivendica il diritto di sedersi sul suo posto. Lei dice che i posti per i cittadini di serie B, come lei, sono al fondo e che lui vuole sedersi. Lei lo guarda e pensa che non vi siano differenze di rilievo tra lei e lui, a parte il fatto che lei è seduta e lui in piedi. Quindi, garbatamente, risponde che lei sarebbe rimasta al suo posto. Quel giorno, nella lontana America del 1955, dove ai neri era stato dato il diritto di servirsi dei mezzi pubblici, ma solo sedendosi nei posti a loro dedicati, senza mescolarsi con i bianchi, fu chiaro a tutti che era stupido dividere i cittadini in bianchi e neri. Pertanto oggi, la componente di cui faccio parte, alternativa libera possibile, si asterrà, perché è stupido continuare a dividerci in cittadini di serie A e di serie B. Grazie, deputata Bechis. Adesso sarebbe iscritto a parlare il deputato Ignazio Larussa, ma non mi pare di vederlo in aula. Dunque, continuiamo. Do la parola al deputato Gaetano Piepoli. Prego, deputato. Grazie, Presidente. Il gruppo parlamentare Centro Democratico Democrazia Solidale ha deliberato di lasciare libertà di voto ai propri deputati, in relazione sicuramente alle diverse sensibilità nel nostro gruppo presenti, ma anche in relazione a una valutazione, oserei dire, un po' tormentata della comparazione del bilanciamento tra punti pieni e punti vuoti di questo disegno di legge. È evidente che c'era un dato alle nostre spalle, un'esigenza non derogabile di disciplinare questa formazione sociale. E, tuttavia, noi non possiamo fingere di non vedere che, sia pur in relazione a un eccesso nell'affermazione dei propri valori, a una sorta di hubris nel percorso parlamentare, l'emergenza ha prodotto anche questa singolare anomalia della fiducia su questo testo di legge.